Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Anna e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si fanno i Maxi Bon, un dolce che di sicuro farà impazzire i vostri bambini e anche i vostri cari e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa gustosa ricetta. Per questa ricetta ci serviranno 250 grammi di farina 00, 125 grammi di burro morbido, 90 grammi di zucchero a velo, 25 grammi di cacao, un uovo intero e un tuorlo, 5 grammi di lievito per dolci e infine una bustina di vanillina. Per prima cosa per comporre il nostro bel Maxi Bon partiamo dal biscotto e incorporiamo lo zucchero assieme al burro per creare una bellissima crema omogenea. A questo punto la sbattiamo con il mixer. Mi raccomando mescolate bene per non creare grumi. Raggiunta questa consistenza aggiungiamo i restanti ingredienti partendo dalle uova, una alla volta e le incorporiamo per bene. Partiamo con la seconda. Ora aggiungiamo la farina. Poco alla volta. Mi raccomando deve essere bella setacciata. A questo punto aggiungiamo il cacao. Continuiamo a mescolare. Adesso è arrivata l'ora del lievito. Quando vedrete che il mixer farà fatica a mescolare il nostro biscotto, voi continuate con le mani e aggiungete la vanillina. Amalgamati tutti gli ingredienti per bene, ora non ci rimane altro che prendere la nostra massa per biscotti e appoggiarlo su un bel foglio di pellicola che poi avvolgeremo sul nostro impasto e lasceremo in frigo per minimo un'ora, ossia finché il nostro impasto diventerà bello duretto. Abbiamo tolto dal frigo il nostro impasto e l'abbiamo appoggiato su un foglio di carta da forno e adesso non ci rimane altro che dividerlo in due parti uguali. E inizierai a lavorare una di esse con il mattarello fino a formare un cerchio di 26 cm. Mi raccomando ragazzi, è finito il primo cerchio e continuate anche con il secondo. Ora abbiamo appoggiato sopra il nostro impasto la base della nostra teglia e togliamo via l'eccesso. Abbiamo appoggiato il nostro impasto con la carta da forno su una teglia e ora non ci rimane altro che bucherellarlo per bene. Fatto ciò lo metteremo a cuocere nel forno statico a 240 gradi per 5 minuti. I nostri biscotti sono pronti e ora ci occupiamo del gelato. Per il nostro gelato ci serviranno 400 grammi di panna fresca da montare non zuccherata, 250 grammi di latte condensato e per chi non avesse visto la nostra di ricetta si guardi per bene il link in descrizione, 200 grammi di cosce di cioccolato e infine un cucchiaino di essenza di vaniglia. Iniziamo a montare la panna finché non diventerà bella corposa. Abbiamo montato la nostra panna ferma e ora aggiungiamo anche il latte condensato. Ora iniziamo a mescolare per bene. Ora aggiungiamo anche la vaniglia e le gocce di cioccolato. Ora mescoliamo per bene. Ecco com'è venuto il nostro gelato e ora noi abbiamo messo da parte un pochino di gocce di cioccolato che ci serviranno più tardi. Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e partiamo dal tutto con una teglia in silicone con un'apertura d'anello. Poi abbiamo preso uno dei nostri biscotti e l'abbiamo girato al contrario quale fungerà da base per il nostro maxibon. Ora aggiungiamo il nostro gelato sopra la nostra base di biscotto girato al contrario. Ora distribuiamo bene appunto il nostro gelato su tutta la superficie della nostra teglia per bene, per benino, dappertutto. e ora chiudiamo il tutto con il biscotto girato dalla parte bucherellata non al contrario. Ecco come si presenta il nostro bellissimo maxibon e ora non ci rimane altro che mettere il tutto in freezer per circa 12 ore. Dopo 10 ore abbiamo tirato fuori dal freezer la nostra torta gelato e ora la apriamo per bene dall'anello. Ma guardate com'è venuta bene! Che bella! Per l'ultimo passaggio ci serviranno 70 grammi di nocciole tritate e 150 grammi di cioccolato fondente che andremo a sciogliere a bagnomaria. Abbiamo sciolto il nostro cioccolato a bagnomaria e ora ci aggiungiamo anche le nocciole che sono già state tritate. Le mescoliamo per bene. Abbiamo appoggiato la nostra torta sopra una griglia e ora la copriamo per metà con la pellicola trasparente alimentare proprio in questo modo molto bene e l'altra metà la ricopriremo con la glassa che abbiamo ottenuto in precedenza. Ora la stendiamo per bene su tutta la nostra metà della torta aiutandoci con uno spatolino. Fatto ciò togliamo la pellicola e mettiamo tutto in freezer per minimo mezz'ora. ecco com'è venuta. Ora veramente l'ultimo passaggio sarà mettere un po' di gocce di cioccolato che avevamo messo da parte lungo il gelato che è rimasto ancora bianco. guardate com'è venuta bene la nostra torta maxibone bella fatta bene golosa e ora ne mangio una bella fettina insieme a voi. è buonissima c'è il crocante di questa glassa che abbiamo fatto questo biscotto è buonissimo anche quello bello croccante e cioccolatoso che il gelato è buono si scioglie in bocca dopo viene completato tutto da un altro biscotto insomma ragazzi è veramente da provare. come potete ben vedere una fettina è proprio andata via non esiste più qua dentro e ora non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata ciao a tutti ragazzi